600 milioni di euro per le famiglie bisognose con minori a carico quest'anno e un miliardo dal 2016 e questa è la principale misura di lotta alla povertà contenuta nella legge di stabilità approvata oggi. Un intervento importante è una misura in cui diventa strutturale e chiaramente un primo passo verso una misura universalistica di contrasto alla povertà. Evidentemente la misura, la dimensione dell'intervento stesso è molto limitata. Nel quadro di una manovra che nel suo complesso sfiora i 30 miliardi di euro sembra che il contrasto alla povertà abbia un ruolo marginale rispetto ad altri obiettivi. La domanda è se da una parte si danno molte risorse alle famiglie, alle famiglie che stanno anche meglio in questo paese per fare riprendere i consumi, perché dall'altra parte famiglie in condizione di povertà assoluta non debbano avere un aiuto che possa renderle capaci di uscire dalla condizione di povertà. La Caritas chiede da anni un intervento organico e generale contro la povertà piuttosto che misure per singoli gruppi di persone. Il dubbio può sempre rimanere quando si fanno scelte categoriali, per questo noi vogliamo scelte universalistiche perché le categorie vanno in competizione l'una con l'altra e onestamente in qualche modo incidono sul principio costituzionale di uguaglianza. Gli interventi universalistici sono una risposta strutturale, progressiva è una risposta struttura, è una risposta che si chiudeva, non dubbio, non dubbio, è un'esmulto struttura struttura, non dubbio. Voi, la carità di potente, è un'esmultoso struttura, è un'esmulto che diventa un'esmulto che esplice, diventa un'esmulto che da questi, è un'esmulto che